Il compito che gli organizzatori di questo interessantissimo meeting mi avevano un po' affidato era quello di valutare e di parlare del contributo di Corrado Cini nelle scienze statistiche. Posso assicurarvi che quando si ha a che fare con una personalità complessa e variegata come quella di Cini è meno semplice di quanto si possa pensare riuscire a delineare 50 anni dopo la sua scomparsa una sintesi di ciò che resta ed è ancora attuale da un punto di vista prettamente statistico e metodologico dei suoi contributi scientifici. Si è come presi da una forza che ci spinge in varie direzioni perché Cini era tante cose collegate tra loro, era statistico, economista, sociologo, demografo. Per lo studioso italiano, per lo studioso di Motta di Livenza non c'erano confini tra differenti campi disciplinari che non potevano essere travalicati, non c'erano specializzazioni entro cui restare chiusi, una mente troppo grande la sua perché la statistica non dovesse andargli stretta. Pur laureato in giurisprudenza gli interessi scientifici di Cini non erano di natura giuridica come ha di anzi accennato il Presidente, anzi già dalla sua tesi di laurea emergeva un chiaro interesse per molte altre discipline tra cui ad esempio il calcolo delle probabilità, la cui importanza nello studio dei fenomeni fu ribadita per tutta la sua lunga e fecondissima vita scientifica. Lo stesso Cini sostiene che il suo primo amore fu per la teoria delle probabilità e il suo punto di vista sull'argomento venne delineato in un articolo comparso nel dicembre del 1907 sul giornale degli economisti dal titolo Contributi alle applicazioni statistiche del calco delle probabilità. Le tesi che venivano riportate in questo articolo le aveva sostenute al Congresso della Società Filosofica Italiana tenutasi a Parma alcuni mesi prima nel settembre di quello stesso anno e saranno approfondite, ampiate, scevrate nel volume che da un punto di vista editoriale uscirà solo l'anno successivo dal titolo Il Sesso dal punto di vista statistico. Quel suo amore non restò incompreso e proprio il suo modo di vedere la probabilità egli attribuisce l'avvio positivo della sua carriera universitaria considerandolo una conseguenza della favorevolissima impressione che i suoi scritti e la discussione delle sue probabilità avevano sollevato fra gli studiosi delle scienze esatte al Congresso di Parma che, con il loro autorevole giudizio, non poterono, sempre secondo Cini e lui che scrive, non influire sui giudici dei concorsi di statistica, competentissimi in tanti rami della disciplina ma sicuramente non nella teoria delle probabilità. Che d'altra parte il suo non fosse un flerte passeggero con la probabilità lo si resume anche dal fatto che nel volume collettaneo che alcuni suoi collaboratori stavano preparando in suo onore, in cui venivano raccolti alcuni dei suoi principali contributi, egli all'ultimo momento volle aggiungere teoria logica e psicologica della probabilità, un ponderoso, veramente oltre 100 pagine da tiro scritte, studio che egli aveva lasciato per oltre 50 anni nel cassetto, come se fosse in attesa che le sue idee venissero confermate tutta una vita di studio. Intrapresa la carriera universitaria Cini si dedicò principalmente allo sviluppo organico della teoria statistica, alla verifica della sua applicabilità alle ricerche concrete senza comunque tralasciare i legami della statistica con il calcolo delle probabilità e i concetti che erano e sono alla base di quest'ultimo. Comunque solo nel decennio 39-49, 1939-1949 che egli ritorna in maniera esplicita e diretta ad occuparsi dei legami tra probabilità e statistica soffermandosi con rinnovato interesse sulla analisi dei problemi inferenziali. In particolare al primo congresso della Società Italiana di Statistica tenutasi a Pisa nell'ottobre, 9 ottobre del 1939, nel suo famoso discorso inaugurale, I pericoli della statistica, Cini critica i metodi fiduciari di Fischer coinvolgendo anche la struttura per la verifica delle ipotesi proposta da Neiman e Pearson, in quanto egli li considera deboli da un punto di vista concettuale. Tali critiche erano basate su argomentazioni bayesiane, ma come è stato fatto rilevare tra vari autori la visione della probabilità di Cini è troppo limitata, in quanto basata sulla tradizione di autori classici come Bernoulli, Laplace, Pearson, più che sull'approccio neobaliziano suggerito da De Finetti. Eppure lui De Finetti lo conosceva perfettamente perché quando era presidente dell'Istat lo aveva assunto come diurnista a quei tempi, però lui non fa mai riferimento alle teorie di De Finetti. Il punto di vista ciniano ha detto luogo anche uno scambio di lettere con Fischer e in merito Cini rammenta come quest'ultimo, dopo aver letto il suo discorso, gli schisse una lettera, mette anche la data, 22 dicembre 1939, in cui riconosceva la impeccabile logica della tesi ciniana, ma sentiva che in pratica le applicazioni criticate da Cini stesso presentavano meno inconvenienti di quanto si potesse pensare. In altre parole, leggendo quella lettera, Fischer aggiungeva di non aver mai preteso che il ricorso a un test di significatività potesse avere luogo trascurando gli aspetti segnalati da Cini. Tuttavia la data ci dice 22 dicembre 1939, un vero dibattito non poteva avere luogo perché spento sul nascere dalla guerra, quando tra i due era appena iniziato un cordiale e fattivo contributo. A guerra conclusa troppo tempo era passato perché le reciproche posizioni non fossero ormai consolidate. Purtroppo la rigida posizione assunta da Cini contro le teorie inferenziali non fu costruttiva, non propose nulla di alternativo e finì per nascondere quanto di positivo e c'era di positivo nel suo ragionamento. In merito occorre ricordare che Cini era pienamente convinto delle sue capacità e della correttezza logica del suo ragionamento. Naturalmente questo atteggiamento gli causò non pochi problemi nei rapporti con i colleghi e con gli altri studiosi. Un esempio è dato proprio da questa sua critica all'inferenza e la sua assoluta convinzione, almeno agli inizi, che non solo erano il giusto ma che la sua idea fosse completamente originale. In realtà, come rilevano alcuni studiosi, questa convinzione era parte dovuta al fatto che la conoscenza di Cini del lavoro di Fisher, di Neiman Pearson, non era completamente adeguata. Comunque la posizione di Cini aiutò a chiarire i presupposti base delle teorie contestate evidenziando l'erroneità di alcune interpretazioni. Inoltre un'attenta rilettura di alcuni scritti sull'argomento evidenziano il tentativo di alcuni ricercatori di riconciliare la posizione di Cini con l'inferenza statistica moderna e lo stesso De Finetti, in un articolo apparsa su Metro, un anno dopo la sua scomparsa, sottolinea, cito, su certi specifici e significativi punti si realizza una piena concordanza tra gli atteggiamenti, pur ispirati a visioni diverse di Cini e dei soggetti visti. Pertanto possiamo dire che le osservazioni critiche di Cini avevano e danno senso. Il fatto è che non sono state integrate una proposta alternativa e ciò inevitabilmente ha portato a una posizione marginale e risolata nell'ambito della più ampia comunità internazionale. Abbiamo detto che furono tanti i contributi uscinali di Cini in campo statistico-metodologico e tra questi ci piace ricordare uno studio mirante ad analizzare le relazioni tra prezzi e consumi, pubblicato nel 1910 sul giornale degli economisti, un lavoro d'avanguardia per l'epoca, considerando che l'econometria non era stata ancora inventata. Questo termine fu introdotto successivamente da Frisch. Questo tipo di interessi lo avrebbe portato ad occuparsi della teoria dei numeri indici, a cui dette contributi rilevanti, basta ricordare il suo articolo del 24 su Metron, in francese. Riuscì a costruire un solito ponte tra la teoria statistica e la teoria economica, mediante le cosiddette identità di Cini, cioè le famose Cini's Identities, come furono definite da Frisch, colui che dette questo nome all'econometria nel 1936. Ma anche l'indice di Conus è una diretta conseguenza di questa identità, proposto alcune decine di anni dopo. Sempre nell'ambito della teoria dei numeri indici, il metodo di aggregazione sviluppato nel 1964 dal Teto ed altri era già stato anticipato 40 anni prima, come alcuni colleghi hanno avuto modo di evidenziare, tra cui Kubert, ma soprattutto Bigeri ed altri, con un bellissimo articolo in cui si rivendica la paternità e l'originalità dei contributi di Corrado Cini. Tuttavia furono i suoi studi sul reddito della ricchezza e soprattutto quelli collegati alla misurazione della disuguaglianza distributiva di queste variabili, cioè del reddito della ricchezza, che gli dettero quel successo e quella notorietà che ancora oggi permangono. Questo tipo di ricerche a cui parteciparono vari studiosi, tra i primi, sia furono proprio Pareto e Gini, si inserisce in quel dibattito politico-economico sul modo in cui raggiungere una più equa distribuzione del reddito e della ricchezza che si era fatto particolarmente animato verso la fine del XIX, inizi del XX. secolo. Naturalmente gli indici proposti, non ci soffermeremo su questo, da questi due studiosi, dettero luogo un acceso dibattito, ma Gini, nonostante considerasse, e come poteva essere altrimenti, il suo indice migliore di quello di Pareto, continuò con grande impegno in questi suoi studi e nel 1914 propose un altro indice, il rapporto di concentrazione, in un lavoro intitolato sulla misura della concentrazione e della variabilità dei caratteri. Mi preme sottolineare che erroneamente tali indici, a volte alcuni studiosi, lo datano, cioè il rapporto di concentrazione, prima del 1914, ma potrebbero essere stati tratti in inganno dal fatto che può essere spesso in termini di differenza media, che era stata introdotta in statistica da Gini effettivamente nel 12. D'altra parte è lo stesso Gini che in varie occasioni, già nel 1921, quando risponde a un articolo di Dalton, ma in altre occasioni, in sede ad esempio della riunione dell'International Statistical Institute, Gini scrive, nel 1914 proposi il rapporto di concentrazione, mostrando contemporaneamente le relazioni tra questo indice, la curva di Lorenz e la differenza media. Fin dalla sua comparsa in letteratura il rapporto di concentrazione ha dato luogo talvolta ad accesissime discussioni tra studiosi di differente background culturale. Così ad esempio all'inizio degli anni 70, quando Gini era già morto da 5 anni e naturalmente l'interesse sul suo indice era caduto tra gli studiosi italiani, quindi c'era un declino per l'interesse, anche per la misurazione della concentrazione, un articolo di Atkinson del 70, mosse un po' le acque e gli criticò alcuni indici tradizionali, tra cui quello di Gini, perché non classificavano le distribuzioni di reddito secondo particolari funzioni di utilità sociale, cioè queste funzioni di utilità sociale non erano strettamente concavi, ma in realtà il dibattito che ne scaturì mostrò la forzatura di alcune conclusioni di Atkinson, maturate in un contesto utilitaristico i cui limiti furono evidenziati fin dal 1972 da Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 1998. Ma saranno proprio le particolari peculiarità, quelle che alcuni considerano degli inconvenienti del rapporto di concentrazione di Gini a considerare a Sen di proporre una misura della povertà basata sull'indice di Gini e Sen scrive nel suo volume del 1973 che il rapporto di concentrazione è una misura diretta della diversità reddituale, perché tiene conto delle differenze tra ogni coppia di redditi. Naturalmente una notevole contributa all'evoluzione, al mantenimento dell'attualità del rapporto di concentrazione è dovuta alla proposta di varie scomposizioni per fonti di reddito o per gruppi e sottopopolazioni. La scomposizione è importantissima perché è un valido strumento utilizzato ad hoc nelle mani dei cosiddetti policy makers per valutare ad esempio tra differenti provvedimenti di politica economica idoni al raggiungimento di una più equa distribuzione del reddito. Anche in questo contesto l'indice di Gini si inserisce in maniera principale e naturalmente suscita delle critiche, soprattutto per quanto concerne la sua scomposizione per gruppi o sottopopolazioni, perché il rapporto di concentrazione di Gini non è scomponibile additivamente, nel senso dell'analisi della varianza. A parte che non c'è scritto da nessuna parte perché un indice deve essere scomponibile in maniera additiva, cioè within più between, disuguaglianza all'interno di gruppi, disuguaglianza tra i gruppi questa osservazione naturalmente è stata confutata da numerosissimi studiosi. Lo stesso Amartya Sen, tanto per citare il nostro premio Nobel, secondo il quale la scelta e una misura di disuguaglianza sulla base della scomponibilità additiva non è affatto ragionevole come frequentemente gli dice viene sostenuto. Infatti misure come ad esempio l'entropia o il coefficiente di variazione riescono a superare la prova di additività, rendendo però la valutazione del rendito di ogni persona completamente indipendente da quella degli altri componenti, la comunità che esaminiamo. In questo contesto riteniamo opportuno rammentare una scomposizione proposta nel 1994 da Slomo Izzachi, il quale individua le tre componenti within, between, più una componente residua che è la overlapping e questa overlapping mostra l'importanza di quest'ultima componente residua interpretandola addirittura come una misura della stratificazione tra gruppi socio-economici. Ma l'idea di misurare l'overlapping può farsi risalire allo stesso Cini, alla transvariazione 1916. Quindi ancora una volta Corrado Cini era stato un precursore di strumenti che verranno utilizzati decenni e decenni dopo. Ora, per molto tempo l'indice di Cini ha avuto naturalmente, ai suoi tempi, scopi esclusivamente diremo descrittivi. Beh, con il passare del tempo la necessità di risporre rapidamente a basso costo le informazioni sui redditi e sulla ricchezza è evidente e ha fatto sì che questa misura venisse stimata su dati campionari. Parola impronunciabile per Corrado Cini. Pertanto tutta l'attualità di questo indice è dovuta anche a tutti gli studi che sono stati svolti dopo la morte di Cini da un punto di vista campionario. Un approccio parametrico e un approccio non parametrico. Ora, e mi avvio alla chiusura, molti dei contributi metodologici di Cini hanno superato le prove del tempo, conservando una invidiabile, in alcuni casi, inspiegabile attualità. Ebbene, lo studioso di Motta di Vivenza dette tali contributi ricorrendo il meno possibile a strumenti matematici sofisticati. Egli si confrontava con la realtà e cercava di capire la logica sottostante gli accadimenti e solo dopo, e nella misura strettamente necessaria, ricorreva agli strumenti matematici per cercare di racchiudere il tutto in un modello o, come lì, preferiva dire in uno schema, perché questa parola, questo termine, fa subito intendere la semplificazione delle realtà che il procedimento comporta. Quindi, un uso parsimonioso della matematica in ambito statistico era per Cini un modus operandi, per evitare l'elaborazione di strutture complicate, volte a soddisfare solamente una grammatica interna, ma difficilmente utilizzabili in pratica. Secondo noi, sulla stessa lunghezza d'onda si trova sempre anche a Martia Sen, il quale, quando si tratta di valutare tra vari procedimenti di scomposizione, sostiene con forza come non sia sufficiente limitarsi alla considerazione degli aspetti formali. Possiamo pertanto dire che la produzione scientifica di Cini, in generale e quella metodologica in particolare, raramente fu il risultato di un'elaborazione teorico-formale fine a se stessa, ma scaturì dalla necessità di risolvere problematiche concrete che egli affrontò da diversi angolature, da diversi punti di vista. Tra i vari contributi metodologici si annovrono anche gli studi sui valori medi che egli classificò in base ad alcune caratteristiche anatiche, fornendone anche formule generali. Studiò anche la problematica connessa all'estensione del concetto di media e delle variabili qualitative. Ora, Cini, nel suo multiforme modo di essere scienziato, fu guidato da un nato senso di deontologia scientifica che gli consentì sempre di contrapporre le ragioni della scienza a quelle della politica. Questo suo modo d'essere, oseremo dire questa sua etica, si estinsecava quotidianamente con il rifiuto di piegarsi a qualsiasi favoritismo con la salvaguardia della veridicità del dato statistico mediante un rigoroso uso dei mezzi utilizzati, evitando in tal modo lo stravolgimento dell'indagine. Così, ad esempio, quando appurò l'alterazione dei dati decensuari del 1931 che mostravano la popolazione di Catania e Napoli di gran lunga superiore a quella reale, decise di rifare il censimento nelle due città. E concludendo, ci piace rammentare come i maggiori contributi alla sopravvivenza e all'evoluzione di alcuni risultati statistico-metodologici di Cini sia opera di studiosi non italiani, che evidenziano l'attualità delle sue intuizioni, tanto da poter parlare di back to the future per quanto concerne le prospettive statistico-metodologiche e applicative che emergono da alcuni suoi risultati. Tutto ciò è evidenziato in un ottimo volume di cui sicuramente questa sera l'amico e collega Slomo Izaki della Ibrugli Universi di Gerusalemme vi esporrà i risultati di 30 anni di studio, con il quale naturalmente mi scuso per non poter essere presente, causa le mie condizioni di salute. E infine vorrei rivolgere un appello, vi chiedo scusa, lo rivolgo all'organizzatore di questo interessante incontro, in particolare alla Fondazione Roma Sapienza, affinché dopo i festeggiamenti il nome di Corrado Cini non cada nel nostro più grande Ateneo, di nuovo nel dimenticatoio e scompaia per qualche decennio, fino al prossimo anniversario. E per evitare ciò chiediamo il supporto alle iniziative comuni, alle iniziative ad hoc da stabilire e da concordare affinché il Dipartimento di Scienze Statistiche, che oggi raccoglie praticamente tutta la ex facoltà di Cini, assuma il nome di Corrado Cini, Dipartimento di Scienze Statistiche Corrado Cini. Questo è un auspicio, è un appello che io rivolgo al Presidente della Fondazione Roma Sapienza e col quale si può intavolare iniziative naturalmente nell'ambito del Dipartimento, il sottoscritto ed altri colleghi si faranno promotori di questa richiesta. E veramente chiudo. Devo dire che molto è stato criticato Corrado Cini per il suo modo di essere, per la sua politica, per il periodo, su questo ho scritto molto, ma l'impressione che si riceve dal carteggio, leggo letteralmente le parole a pagina 554 di quel bellissimo volume di Giuseppe Leti, l'Istat del Consiglio Superiore di Statistica dal 26 al 45, Leti scrive «L'impressione che si riceve dal carteggio tra Cini e il Duce è quella di un uomo che dialogava con il potente, non per spirito di ubbidienza o di sottomissione, ma per amore del suo lavoro». Chi ha avuto la possibilità e la volontà, la voglia di leggere quel bellissimo volume, si vedrà come Cini stesso con Mussolini non fosse, nelle sue risposte, sempre ossegioso. Un volume che, secondo me, dopo circa 20 anni che è uscito, non è stato sufficientemente ancora valutato dagli statistici italiani, soprattutto coloro che si definiscono sempre alla frontiera. Alla frontiera non si sa bene di che, perché quando non si conosce il proprio futuro poi ci si accorge che la nostra frontiera in realtà è arretrata. Grazie. Vi chiedo scusa se vi ho trattemuto troppo almeno.